Gelato biologico, alla frutta, allo yogurt, naturale, senza lattosio, per celiaci, sono tanti, anzi tantissimi, i gusti di gelato proposti in quest'estate 2013. Scopriamo quali. Arrivato il caldo per sconfiggere il gelato è una delle migliori cure. Qui dal Linus Jets quali sono le novità del 2013? Le novità per il caldo di quest'anno sono la nostra cremolata di frutta fatta con tutta frutta fresca, zucchero di canna, un po' di zucchero d'uva, sono molto dissettanti, molto freschi e quest'anno sono partite veramente bene. Le facciamo alla fragola, all'ananas, al cocomoro che è il numero uno e al limone classica. Invece per quanto riguarda il gelato il gusto preferito? Il gusto numero uno è il cremino Jets, la nostra specialità che è fatto con un cioccolato bianco e nocciola e una salsina di gianduia come copertura. Qual è la caratteristica dei prodotti qui da Linus Jets? La naturalezza e la genuità delle materie prime. Caldo pazzesco si riesce a sconfiggere anche tramite il gelato. Qui da Pure Bio che novità ci sono? Allora abbiamo Fico Moro, novità del 2013, con ricotta, Fico. Il nome Fico Moro viene da un albero, un albero che è situato a Caneva, che è una città, un paesino nel Friuli. Questa è la novità del 2013. Dopodiché abbiamo il pistacchio che è il nostro cavallo di battaglia. A seguire Greta, che è un nocciola e gianduia con cioccolato. E infine abbiamo Viola, che è un gusto di fior di latte, mascarpone e lampone. I clienti quindi preferiscono la novità? Le novità sono sempre ben accette dai clienti. Ovviamente abbiamo dei clienti fidelizzati che cercano i gusti standard e quando non li trovano dopo si trovano un po' spaesati. Ma recuperiamo subito con i gusti nuovi. Qual è la caratteristica dei vostri gelati? Tutto biologico, materie prime selezionate, latte biologico ovviamente, alcuni gusti di riso per celiaci e per chi ha intolleranze al lattosio, senza zucchero ovviamente. Tutti i gusti di frutta tassativamente con acqua e fruttosio e frutta fresca. È arrivato il caldo, quello forte e il gelato è un ottimo rimedio. Qui alla gelateria, ok, che gusti proponete come novità 2013? Allora, come novità c'è il cristallo di luna, che è una crema con nutella e sfogliatina, poi c'è amare pesca, che è pesca amaretto, oppure pelmo fragola, che è fragole pompelmo. Quindi dei mix completamente nuovi? Sì, sì. Cerchiamo così nuovi sapori. E invece per quanto riguarda i gusti preferiti dai clienti, cos'è che va di più? Oltre la frutta per il caldo, il classico bacio, la nocciola, questi classicissimi vanno sempre. Qual è la caratteristica dei vostri gelati? Genuinità, freschezza e cremosità. Francesca Diletta, per Faenza Web TV Grazie. 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 Grazie.